Musica Ha perso il controllo della Fiaturisse che stava guidando e ha terminato la sua corsa di traverso sulla carreggiata impattando contro il cordolo in cemento che dirimita il parcheggio. È accaduto oggi, venerdì 24 novembre, poco prima di mezzogiorno e mezza, in via Busano-Valperga a un 59enne di Quornier. L'auto è andata completamente distrutta. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, i carabinieri di Quornier e la polizia locale. L'uomo, che ha riportato solo ferite lievi, è stato portato all'ospedale di Quornier, accertamente in corso sulle cause dell'incidente. L'uomo, che ha riportato solo ferite lievi, è stato portato all'incidente.